Musica Oggi testimonial per un prestigioso marchio Domenico Tagliente, cos'è che ti piace di questo look? Ma è il possibilismo, cioè nel senso che la combinazione dei colori e per definizione di tessuti è una volontà coraggiosa di combinare tante soluzioni che lì per lì non ci sembrano giuste e che invece come lui le combina riescono ad emergere. E questo penso che sia la nota, non so se ho rischiato, però è il fatto che sia, è vero che nella moda è tutto possibile, ma senza che questo risulti eccentrico o di cattivo gusto. Chi ha deciso di prendere Alessandro come testimonial? Fisico perfetto, un ragazzo molto semplice, pulito, trasparente e amico degli amici di tutti. Allora mi farà vendere tanto perché ha tanti amici. Cosa non manca nel tuo armadio? Ancora? Questa è una vissazione però, ma non ve lo dirò mai, ma che importa cosa manca nel mio armadio? Ma chiedilo a lui. Scusate, vuoi chiedere a lui? Gira, 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 gira. Posso, posso, scusa? Posso sapere che cosa manca nel tuo armadio, se manca qualcosa? Cosa? Direi che facendo questo lavoro... Sincero eh? Sinceramente facendo questo lavoro, lavorando in questo ambiente direi niente. C'è mutande, calcini? Niente. No, ce ne è abbastanza direi che sono abbastanza coperte. Tanti? Sì, parecchio. Ma dai, non credo che manca neanche nel tuo armadio. No, invece no. Mancano gli slip, non usa gli slip. Ecco, mi mancano le pochettine. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.